Bene, la Polizia di Stata è sempre presente ogni anno qua in occasione del Festival di Sanremo. Ecco, anche quest'anno che vedo che ci sono dei ragazzi sopra nel pulmino. Con il pulmano azzurro noi facciamo educazione stradale e promuoviamo la sicurezza stradale. È un'aula, praticamente un'aula multimediale interattiva. All'interno è presente un simulatore di guida, nella parte posteriore ci sono dei divanetti dove interagiamo con i ragazzi. I ragazzi possono vedere il loro compagno alla guida, se commette degli errori e poi se ne parla insieme. Quanto è importante guidare, ma naturalmente quando si guida non bere. Questo dobbiamo tenere a precisare perché tutti gli incidenti, la maggior parte degli incidenti è causato per lo stato di ebbrezza. Sì, lo stato di ebbrezza è uno dei principali fattori di incidentalità, soprattutto nei giovani. Così come anche nei giovani l'accesso di velocità e l'uso del cellulare durante la guida. Durante la guida, quindi, occhi sulla strada, mani sul volante, non distrarsi mai, rispettare i limiti. Bene, grazie di esserci. Grazie a voi. Sponsor ufficiali Pub, Ristorante e Trattoria e la Cantina del Macellaio, Bar Zanzibar, LS Cittanova.